E' di tre persone ferite il bilancio della rissa scoppiata fra un gruppo di ragazzi salernitani e tre casertani nella tarda serata di ieri in piazza Camillo Gloriosi a Torrione. Ad avere la peggio i tre casertani che sono stati prontamente soccorsi dagli operatori del 118 e trasportati presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Nessuno dei feriti per fortuna desta particolari preoccupazioni. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Salerno. Grazie per la visione!